sicuramente è una sconfitta che non ci meritavamo perché secondo me abbiamo fatto una grande partita purtroppo ci sono stati due episodi che in cui dobbiamo migliorare dispiace più che altro per i tifosi perché anche oggi erano tantissimi come la scorsa volta purtroppo non siamo riusciti a dargli la soddisfazione della vittoria anche questa volta ma cercheremo di rifarci dalla prossima purtroppo oggi ci sono state queste due palle inattive in cui abbiamo subito gol e dobbiamo solo mettere la testa bassa e ricominciare ad allenarsi pensando alla cremonese la sconfitta mi amareggia quindi sono contento che il minister mi dia fiducia io cerco di aiutare la squadra al meglio che posso purtroppo oggi dovevo fare meglio probabilmente quindi la sconfitta brucia comunque ringrazio al minister e ringraziamo i tifosi comunque sempre di darci la loro fiducia speriamo che dalla prossima vado meglio ormai la partita è andata l'analizzeremo per vedere i dettagli e per migliorare ma comunque ormai questa è andata dobbiamo pensare alla prossima risultare la testa e il campionato è lungo e dobbiamo dobbiamo ancora rifarci dalle ultime due partite ma c'è tempo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti